ciao ragazzi come state bentornati sul mio canale oggi finalmente ragazzi arriva una di quelle lattine che ha designato il 2023 nella sua completezza una celebre bevanda ormai commerciale ovunque che è divenuta ragazzi una promo questa monster ultra white se noi la ruotiamo rivela la promo dedicata al videogioco call of duty modern warfare 3 questa qui ragazzi va a definire e completare il mio set per intero fatemi sapere nei commenti se anche voi siete riusciti a completare questo set perché non è così scontato trovarle non le hanno commercializzate con così tanta capillarità e frequenza quindi vi aspetto se avete bisogno di trovarle ragazzi i contatti giusti per voi da molti amata da molti odiata ecco qui la nostra lattina di monster ultra white l'origine ormai una bevanda conosciuta e rinomata ovunque ebbene questa versione davvero strepitosa ragazzi se noi la ruotiamo rivela essere una promo di call of duty modern warfare 3 davvero strepitosa l'illustrazione ovviamente dedicata al gioco abbiamo poi una descrizione completa di quello che è il regolamento e le informazioni a riguardo per partecipare al concorso e l'estrazione premi presente sul sito www.monsterenergy.com infatti dando un'occhiata alla pagina ufficiale è possibile riscontrare diverse informazioni in merito al cumulo dei codici presenti sulle linguette quindi ragazzi in questo modo è possibile vincere skin e ulteriori vantaggi in game proprio grazie a questa collaborazione tra monster e call of duty vi illustro ancora quella che è l'immagine davvero strepitosa mi piace un sacco abbiamo la descrizione e poi non manca il barcode con scu 0623 molto recente questa lattina ragazzi che dire andiamo finalmente a definire questo set come sapete anche in questa occasione ci tengo inoltre a stappare questa lattina in memoria di inquisitore 3 di conseguenza per ricordare quello che è stato il suo ruolo sui social molto particolare ragazzi anche perché l'icona questa bevanda comunque l'illustrazione è emblematica anche in questo contesto ultra white ragazzi sempre la solita effervescente e agrumata sono sempre concorde nel provarla non si smentisce mai ed eccola qui ragazzi la nostra lattina di monster ultra white siamo pronti come sempre a sorseggiarla dolce agrumata come sempre so che a molti può non piacere ma sono gusti personali ci tengo a precisare che questo set di promo pertanto è composto attualmente in italia da tre lattine oltre a questa qui la ultra white è possibile reperire anche la mango logo e la standard la originale detto questo ragazzi si è un set molto circoscritto volendo guardandosi intorno un po tra le varie regioni d'italia è molto semplice riuscire a reperirle io ho fatto così avendo contatti praticamente ovunque mi è stato semplice riuscire a trovarle però ragazzi so che non è così scontato a volte nei supermercati se ne trova qualcuna altre volte magari manca quella che di fatto magari va a completare o definire un set o anche più e quindi risulta sempre complicato averle tutte succede magari che in certe regioni non arrivino mai anche perché i lotti che vengono distribuiti devono ancora essere consumati entro l'anno e quindi ora che ne vengano ordinate delle nuove che di fatto sono in questo caso le promo passa molto molto tempo e mi è capitato vedendo anche contesti laddove lattine comunque molto vecchie o di promozioni precedenti saltavano fuori praticamente anni dopo detto questo ragazzi fatemi sapere se anche voi siete riusciti a completare questo set questo trio di monster praticamente definito tramite la promo di Call of Duty Modern Warfare 3 ci tenevo ad averlo anche perché è molto recente come cosa quindi non esitate ora lasciare un like ad iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessuna novità e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV ciao